Si stanno rifiutando di... Non l'hanno fatta fino adesso. E adesso non hanno fatto niente. E quello che hanno fatto è stato fatto per distruggere i terrazzi, perché praticamente l'impermeabilizzazione che è stata fatta da terrazzo l'hanno trasformato in là. Perché gli impegni presi sono una cosa, il fatto di dare una mano, come dice appunto il signor Campolo, penso che sia... No, penso che dopo un giudizio, tra l'altro sicuramente positivo per la parte resistente, penso che sia molto difficile, insomma, che adesso ci sia la disponibilità a dare una mano, cioè quello vedo almeno dall'esterno. Ma io non... se mi permette, io non lo definirei un giudizio positivo per la parte resistente, perché ripeto, questa è un'occasione mancata. Si è persa un'occasione per far luce su una delle tante vicende di dismissioni private, perché il giudice non si è pronunciato nel merito della vicenda, si è attenuto a un aspetto formale, ma... Volete fare ricorso di un appello? Inesistente. Non abbiamo fatto perché non avevamo più i tempi per fare niente, o firmavamo la proposta... Stante la ristrettezza dei termini, purtroppo l'utilità pratica sarebbe venuta meno. A quel punto, una volta non aver ottenuto la sospensione della procedura, anche perché oltretutto i ricorrenti ovviamente si sono, direi anche giustamente spaventati dalle spese che erano stati condannati pro quota... Alla fine, Avvocato, solo per concludere, lei come pensa, appunto, da giurista, insomma, che si possa risolvere, insomma, questa vicenda, almeno... Quale, diciamo? In qualche modo, il tutto, insomma, questo deciso di risaggio, che ormai, diciamo, tutto quello che è successo prima, diciamo, ormai lo fidiamo alla storia, al passato, eccetera. Però la storia insegna che, appunto, non va mai dimenticata, anzi. Certo, la storia non va dimenticata. Il passato è la base per il presente e per il futuro. C'è chi dimentica la storia, chiaramente, perché addirittura ho parlato di vacanze al confino, roba del genere, però, questo è un altro discorso, chiaramente, c'è di chi dimentica, però non va dimenticata sicuramente. All'altro, sicuramente, si auspica un intervento della VIS, come mi diceva l'amico Campolo, è previsto nel roggito, ma dall'altro lato si potrebbe anche essere uno strumento più semplice, che è quello che l'amministratore, ogni volta che ne avvisi le necessità, può convocare un'assemblea e poter, ovviamente, mettere all'ordine del giorno la revisione del regolamento di condominio delle tabelle millesimali nominando una commissione di studio. Potrebbe essere qualcosa, è contrattuale, quindi ci voglio dopo l'unità. Insomma, i disagi per questi inquiniti, in qualche modo, verranno alleviati, termineranno, verranno almeno alleviati, indipendente dal fatto della storia che non va dimenticata, però, peggio a volte, più che dimenticata, spesso viene mistificata, perciò è ancora peggio, sicuramente. Ma è l'invito che facciamo a queste persone, noi facciamo questo invito, perché altrimenti, dentro, non dimentichiamo, ci sono 300 appartamenti, ci sono circa 1500 persone, le quali, praticamente, per una cosa o un'altra, stanno evidentemente ognuna con opinioni diverse, perché poi ognuno si fa l'opinione, quindi è diventato un calderone bollente, è una cosa che poi diventa un aspetto sociale, per cui, praticamente, non possono, diciamo, questi signori dire, non è successo, abbiamo fatto tutto e ce ne freghiamo. Bene, a questo punto siamo in chiusura, grazie per stati con noi, naturalmente siamo sempre a disposizione nell'Edele Romano per dare voce a eventuali esigenze oppure eventuali sviluppi che venissero a farsi in essere, perciò a questo punto io vi ringrazio, ancora ringrazio l'ingegnere Rasile, il signor Campolo, il signor Stefano Campolo, il signor Alberto Rasile, il signor Stefano Campolo, soprattutto l'avvocato Andrea Baudino, che li ha rappresentati, appunto, sia in giudizio che anche in trasmissione, ma alla fine abbiamo creato una specie, però senza la controparte, purtroppo non per nostra volontà, ma per volontà di chi, chi per un motivo, chi per un altro, insomma, non ha voluto in qualche modo, o non ha potuto, non ha voluto o non ha potuto intervenire. Vorrei che ci fosse un'altra trasmissione per comunicare che queste persone ci hanno dato una mano e abbiamo risolto tutti i problemi. Perfetto, io mi auguro e auspico sicuramente questo, veramente, D'Antonio De Pierro, veramente tutto, sia per questa puntata, sia per proprio la stagione della Radio dei Vip, vi auguro buone vacanze, nel prossimo settimana andrà in onda qualche replica, insomma, delle migliori puntate dell'anno, e poi ci rivedremo, e ci sentiremo ancora, poi il primo a spiegato rivedremo, ci risentiremo naturalmente sul 103.9 di Radio Roma a settembre. Buone vacanze D'Antonio De Pierro, un saluto, grazie ancora a GF Savoca, e grazie ancora a voi per essere stati con noi. Di nuovo, buone vacanze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.